E anche Lothar Matheus ha detto che se vince il mondiale raggiunge Maradona. Non lo so. Supera quindi nessuno. Perché se vogliamo parlare di numeri, Messi ha vinto tutto. Ha vinto come il numero. Sì, Matheus ha vinto a Napoli. Eh, Maradona ha vinto a Napoli, certo. Ma infatti secondo me c'è una dimensione diciamo esoterica quasi, che è quella di Maradona e poi c'è la dimensione che è più storica, migliana di sinistra. Posso riprendere quello che ha detto Beppe? Non è tanto di aver vinto a Napoli, perché poi quel Napoli lì aveva dei grandi giocatori. Bravo, sottolineano quello, perché lui arriva nell'84 e fa fatica. E' quello di aver avuto il coraggio di andare in una squadra che è cresciuta con lui, poi gli hanno preso i giocatori, però diciamo il DNA vincente lo ha portato lui. Questa è una cosa...